Tra fiction e animazione, un documentario che presenta pregi e difetti di un personaggio imprevedibile, capace di poter ripare normali e previsioni mozzafiato. No, non è Fabrizio Corona. Parigi, Bataclan, 13 novembre 2015. La regista di Augustine Proxima prova a mettere ordine nel ritratto collettivo di una tragedia che ancora oggi continua a scioccarci. Un improbabile trio deve far squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo. Cioè praticamente sono le Charlie's Angels della Marvel con Samuel L. Jackson e Brie Larson. Minchia. In effetti due colpi alla Larson. Nico! Scusa, licenza poetica.